Da Gauto Mitsubishi Motors in via nazionale torrente mercogliano Avellino. Oggi proseguiamo quel viaggio intrapreso nelle viscere del capoluogo quando abbiamo parlato dei cunicoli longobardi. Ci siamo spostati in linea d'aria di poche centinaia di metri e ci troviamo nel sottosuolo della casina del principe di Avellino per mostrarvi quanto i tesori nascosti del capoluogo siano non solo affascinanti, non solo possano rappresentare una via per lo sviluppo ma in qualche modo il passato può segnare il futuro se ci sarà, speriamo di sì, un domani un discorso di valorizzazione e promozione. Di questo era una via di fuga da parte insomma dei regnanti che in caso di attacco potevano sfruttare per poter scappare. Questa tunnel conduceva esattamente ai cunicoli longobardi che si trovano sotto la torre dell'Oggio e poi stavano una serie di altri percorsi che arrivavano addirittura a Monteforte. Fascino e mistero nell'ipogeo della casina del principe con studi in corso, in particolare sull'acqua sorgente che attraversa pavimentazione e colonne storiche. Probabilmente si tratta del sistema delle acque messo in piedi da Ecaracciolo nel 600, un sistema all'epoca all'avanguardia. Era un sistema di idraulica all'avanguardia al tempo, quasi immaginato. È vero che è studiata ancora, attualmente ci sta ancora da scoprire tanto al riguardo per come potesse essere strutturato. Per noi comunque è un'attrattiva di interesse, sicuramente bisogna sfruttare questo tipo di realtà che abbiamo. Io personalmente, come prologo, ma situazione prologo che è volta a valorizzare il territorio, a far conoscere anche spesso luoghi che si trovano a due passi da casa nostra e di cui non si conosce neanche l'esistenza è il nostro obiettivo, quindi continueremo a farlo come facciamo con questo tipo di struttura che è la casina del principe, come altre strutture ecclesiastiche che facciamo visitare sempre e che promuoviamo e come stiamo facendo con questi po' giochi, a molti era sconosciuto fino a poco tempo fa e che stiamo cercando di far conoscere a più gente possibile.